iniziano ad arrivare le critiche per sebastian rode ultimo acquisto un giocatore preso un investimento importante stiamo parlando di un giocatore che ha si vinto magari non da protagonista d'europa league ma sa cosa significa giocare ad alti livelli e l'abbiamo preso proprio per migliorare il centrocampo genoa e migliorare i risultati del griffone in un momento delicatissimo della stagione ragazzi ben ritrovati oggi come sapete un episodio molto importante ma ci tenevo ad aprirlo appunto commentando analizzando il momento no di sebastian rode c'è da dire comunque che è arrivato in un contesto non facile in un campionato che non conosce in un centrocampo che è appena stato stravolto perché appunto la addio anticipato di strotman ha cambiato decisamente il volto del nostro centrocampo concedosi spazio minutaggio giocatori come su raro che hanno giocato effettivamente poco ma bisogna un attimino ritrovare quei tre giocatori che ci hanno anche permesso poi in certe partite in certi momenti della stagione di portare assist e qualità in quella zona di campo l'urlo dei tifosi del como noi vogliamo questa vittoria ma la vuole anche il genoa per iniziare bene l'episodio per evitare lo spettro esonero perché si continua ahimè a parlare di esonero continuano ad arrivare delle mail come se fossero un ultimatum come dire mister guarda che la prossima è decisiva guarda che la prossima se perdi i salti io ho la paura ho la forte paura il forte timore che anche un pareggio possa costar caro perché questa dirigenza ripeto non vuole il playoff non vuole il secondo posto ma vuole vincere il campionato e la paura la beffa diciamo più che paura sarebbe quella di conquistare la serie a magari da secondi ma poi non giocare la da protagonisti ma guardarla da spettatori perché magari potrebbero comunque esonerarci fascia di capitano al 19 abbiamo cambiato il numero di maglia come avevo anticipato nello scorso episodio la 11 invece è il numero del grandissimo albert goodmanson e poi la davanti il 9 il 10 tensted e coda rode cabina di regia portanova andiamo da tensted poi ancora prolunga qui la corsa portanova ad allargare ecco il supporto a parte di ziborra cross ribattuto chiama palla rode può provare a piazzarla rode ci ha provato grande intervento di zanotti prendroop goodmanson nello spazio va col destro prendi il legno goodmanson ed è ziborra nello spazio attenzione perché si tuffa dentro con la palla al piede poi tensted va col sinistro deviazione da parte di zanotti e stava per essere preso così in controtempo visto che c'era stata poi un'ulteriore deviazione del difensore del como avanza portanova c'è coda velo per ft che pensa alla gran botta dalla distanza mamma mia super ft 1 a 0 genua ma cosa si è inventato col pazzesco ragazzi pazzesco di silva nefti proprio lì davanti ai tifosi del griffone che gol ragazzi probabilmente per ora gol dell'anno probabilmente per ora gol dell'anno anche perché da un giocatore che sì i colpi li ha lo sanno bene i tifosi dell'atalanta che nella passata edizione della champions league ft ha segnato però mamma mia totalmente inaspettato cutrone gol di cutrone ma ragazzi ma qua sono solo gol bellissimi e qua io ero convinto che andasse fuori la palla infatti ero abbastanza segnato cutrone ci prova il pallone gira 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 e segna il 63 1 a 1 andiamo a rivedere qui il replay un gol straordinario da parte di patrick cutrone a memoria senza neanche prendere la mira perché ha mantenuto comunque la testa bassa lo sguardo rivolto al pallone ha trovato a memoria quell'angolino lì avanza ziborra palla al piede densed chiama palla si inserisce perfettamente coda non possiamo sbagliare e coda lì difficilmente sbaglia e 2 a 1 colpo coda colpisce ancora e genoa ritrova il vantaggio praticamente ad inizio secondo tempo andiamo a vedere questa grandissima azione di contropiede da parte del genoa tutto parte dal costo cost quasi a parte di ziborra poi il pallone per tensted e coda si inserisce perfettamente si è creato quello spazio e va a colpire sul primo palo il portiere del como ignali potrebbe calciare ci prova e il como la pareggia ma ogni tiro è un gol da parte loro pazzesco finisce qui finisce 1 a 1 como 2 genoa 2 e purtroppo purtroppo ragazzi abbiamo una partita in pugno hanno letteralmente fatto due tiri in porta due gol pazzesco al ferraris per genoa perugia perugia che si schiera con il 5 3 2 chiaramente poi difesa 3 diciamo un 3 5 2 in realtà in un contesto normale ma comunque questa la formazione della squadra di castori ho cambiato nuovamente le slide ho rimesso quelle di default quindi non ci sono diciamo delle slide personalizzate quelle preimpostate inizio gioco quelle che abbiamo visto ad inizio stagione voglio vedere se effettivamente c'è stato un cambiamento se c'è stato un miglioramento e vediamo come ci troviamo nel frattempo vi dico anche che il genoa fa un po di turnover per questa partita siamo costretti a farlo perché comunque sono ormai tante le partite che stiamo giocando tutte molto ravvicinate e siamo anche sul finale di stagione quindi ci ritroviamo una squadra stanca e che dire ragazzi speriamo di essere un attimino più fortunati rispetto alla partita colcomo intanto attenzione a questo cross direzione ezekvem coda attenzione coda potrebbe anche pensare alla conclusione personale mamma coda ma cosa ha combinato colpo coda ma è un super colpo questo 1 a 0 genoa hyper motion sì perché qua coda è stato trattenuto dal 7 con la difesa del perugia non è andata a pressarlo non si è alzata ma ha continuato ad arretrare a questo punto coda detto io quasi quasi da lì provo la gran botta e trova la rete del vantaggio più che altro a me preoccupa molto la difesa con le impostazioni default quindi valuteremo bene perché alla fine quella la cosa che poi mi ha costretto a cambiarle a portanova è stato fondamentale portanova è stato fondamentale portanova nell'infastidire l'avversario poi anche fondamentale nell'aiutare il genoa a ripartire in contropiede andando a lanciare albert goodmanson che può avanzare ma dentro l'area non c'è nessuno allora goodmanson alla fine si accontenta del cornerone rode e cuban portanova col destro attenzione ancora e cuban prova a piazzarla portanova di prima praticamente un tiro al bersaglio poi portanova ancora e cuban niente da fare potremmo pensare anche a qualche finta però dentro lì dentro l'area di rigore non è diciamo una cosa scontata portanova ha provato la gran botta friend group nuovamente lui e questa volta il pallone dentro ricchi e morte friend group 2 a 0 giro di potenza a parte del 32 quasi 20 metri a cercare il secondo palo una conclusione difficile da parare da intercettare c'è da dire che il genoa ci stava già provando da diversi minuti e alla fine trova il gol con friend group c'è un infortunio intanto c'è un infortunio per melchiorri e qui è la stessa scena che abbiamo visto con ieboa potrebbe essere abbastanza grave gudmanson della viaggia gudmanson ci prova dalla distanza questa volta è facile per gori santoro e qua la situazione scomoda questa per il genoa perché o ivan o ivan ha temporeggiato ha temporeggiato perché cosa fa la passa o prova a calciare e alla fine l'esi fa la scelta giusta la gran botta del 23 il gol che riapre la partita partendo comunque dal presupposto che dietro eravamo in inferita numerica e che quindi già di per sé insomma la difesa non si è comportata benissimo friend group fortunato ecuban non la chiude il genoa 2 a 0 eravamo 2 a 0 non voglio assolutamente pensare alla rimonta da parte degli avversari e lo strappo di ecuban palla al piede attenzione perché c'è coda tutto solo col sinistro altro rigore movimento sbagliato va da galdames tiro dalla distanza tutti i gol da fuori quelli del genoa 3 a 1 e finalmente la chiude e finalmente segniamo più di due gol non mi sembra vero ma come ho detto questa squadra ha le potenzialità per poter provare anche il tiro dalla distanza per poter cercare la conclusione difficile e questa volta segnare pablo galdames a fondo finale per il perugia ma non c'è più tempo anche se segnassero non basterebbe non ce la farebbero e quindi il genoa può festeggiare il ritorno alla vittoria arrivano tre punti importantissimi in casa al ferraris contro il perugia e nell'episodio di oggi abbiamo scoperto che non era una novità già lo sapevamo però provare di più questa conclusione della distanza perché a volte appunto possono arrivare i gol che in questo caso hanno portato tre punti pesantissimi contro il neopromosso Bari il genoa ottiene una vittoria netta per 3 a 0 meno male meno male altri tre gol ottimo sei gol in due partite finalmente un po' di continuità che porta il nostro reparto offensivo continuità anche nei centrocampisti perché vediamo appunto il gol di portanova il gol di gudmonson e poi il gol di coda che se non sbaglio potrebbe essere la sua terza rete mi sembra consecutiva adesso non mi ricordo colcomo si aveva segnato oppure no però diciamo che sono numeri importanti per il nostro coda andiamo avanti vediamo la classifica perché comunque siamo vicini al termine della stagione abbiamo una partita in più rispetto al venezia con solamente due punti di stacco ma purtroppo possono essere anche cinque punti di stacco ma speriamo di no speriamo che il venezia possa fermarsi prossima partita col sud di roll che salteremo ma giocheremo poi l'ultima perché voglio un attimino velocizzare la stagione e probabilmente appunto il prossimo sarà l'ultimo episodio quindi già ve lo dico già ve lo confermo prossimo episodio quello di domani quello delle ore 13 ultimo episodio della serie b col genua cercheremo di fare appunto un all in totale cercheremo di vincere tutte e poi se saremo fortunati sarà serie a da campioni oppure cercheremo appunto di arrivare in serie a da secondi e sperare di non essere esonerati anche perché lo vedete in alta sinistra la situazione è comunque tragica non positiva e infatti qui arriva sempre questa maledettissima mail quella del fatto che comunque non stiamo seguendo i piani qui intanto abbiamo un galdames che me lo terrei tranquillo un bani che diciamo da da giocatore carismatico dice che la situazione nello spogliatoio non è delle migliori probabilmente perché risultati non stanno arrivando allora in realtà il venezia ha perso quindi ufficialmente siamo a meno 2 dal venezia a meno 2 dal primo posto mamma mia ragazzi ve l'ho detto è una serie b allucinante ma non cantiamo vittoria ancora prima di così giocare perché se state ben attenti comunque siamo a soli più 3 dal parma e vi ricordo che sconti diretti il parma sarebbe sopra di noi siamo a più 5 dal benevento ma ripeto mancano 8 partite e comunque può ancora succedere tutto ma ripeto la direzione la strada è quella giusta probabilmente abbiamo finalmente in questo episodio ritrovato il genoa punti importanti arrivano anche in casa del sud tirol ft friend group e da quello che poteva sembrare un problema il fatto che il reparto offensivo non fosse in grado di segnare sta diventando probabilmente anche un arma in più perché appunto adesso segniamo con diversi giocatori è comunque qualcosa di positivo ma in generale un genoa che sta ritrovando tanti gol non ci limitiamo più al gollettino al solo gol così che il più delle volte è un rischio per noi perché quante partite eravamo solo una zero poi sul finale ci hanno appunto segnato o addirittura poi rimontato quindi tanta 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 roba il genoa tanta tanta roba la situazione in classifica perché in questo momento siamo a pari punti con il venezia non ricordo però sinceramente se dobbiamo ancora giocare con loro il ritorno o perlomeno eventualmente vediamo perché se in questo caso se loro sono primi o dobbiamo ancora giocare contro di loro oppure ok sì diciamo eh ragazzi sì lo vedremo nel prossimo episodio perché la prossima la giocheremo sarà contro l'ascoli e prossimo episodio probabilmente sarà sfida scudetto col venezia anzi togliamo il probabilmente sarà proprio così quindi mi raccomando ragazzi domani non perdetevi l'ultimo appuntamento di questa prima stagione con il genoa certo per renderla una vera e propria sfida scudetto bisogna anche farsi trovare pronti bisogna anche avere i punti necessari per renderla tale e quindi speriamo ad arrivare alla partita col venezia dove siamo ancora in gioco per il primo posto vi ricordo appunto che pare perché comunque la situazione non è cambiata la classifica è migliorata noi tra l'altro abbiamo anche la potenzialità di eh il potenziale abbiamo l'occasione per poter superare già adesso il eh venezia vedremo se i ragazzi ce la faranno vedremo se Tengstead riuscirà a segnare insieme a Coden insieme a tutto il reparto offensivo alla concentrazione di Blessin ma sempre la pressione a Blessin perché veramente questa fiducia dell'agenza è sempre bassa cioè siamo lì siamo secondi obiettivo quasi raggiunto ma ancora allenatore così sotto pressione probabilmente davvero questa squadra a differenza di altre deve proprio per forza andare in A non può permettersi un'altra stagione in B e questo chiaramente lo sappiamo anche perché questo gruppo 777 partners ha investito tantissimo nel grifone sia nella realtà che poi anche all'interno della nostra carriera con acquisti importanti sia eh guardando al futuro come l'acquisto di Jellert o Ivan Ezekvem e altri e poi naturalmente anche Sebastian Rode come ho detto appunto se non dovesse essere Serie A è un giocatore sarà il primo probabilmente che manderemo via capitolo slide ragazzi non lo so se manterrò quelle di default perché secondo me forse è meglio tornare con quelle di FIFA 23 carriera allenatore il gruppo Facebook Tensted ha spazio poi va da Ziborra di prima attenzione Coda non pare essere in posizione regolare è tutto regolare invece colpo Coda 1 a 0 abbiamo fatto un gol di rapina stile gli avversari su FIFA perché la posizione di Coda veramente era molto al limite molto 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 al limite però qui tanta roba Gudmonson tanta roba Gudmonson però bravissimo Coda nel controllo di sinistro se la sposta sul destro la va a piazzare e vantaggio Genoa Tensted c'è Coda all'inserimento di prima e Badel invece non era Coda era proprio Badel che vabbè sta capriola proprio nella realtà la fa tutti i giorni così si sveglia e fa il triplo salto mortale comunque bravissimo Tensted anche uomo assist e poi bravissimo Badel nell'inserimento ma questo per quale motivo? perché appunto utilizziamo quel modulo dove la mezzala di destra si inserisce colpisce fa male e il portiere dell'Ascoli può solamente guardare Falzerano bravissimo qui bravissimo probabilmente Bani che salva letteralmente il Genoa da un gol praticamente fatto intanto Cornerone, Portanova di testa arriva anche Gudmonson di testa Ciretti, sponda il destro salve in qualche modo Martinez e Corner Genoa e allora Badel ha la battuta pallone sul secondo palo pallone scomodo per Portanova poi nuovamente Badel l'occasione per metterla in mezzo attenzione perché non è male non è male e arriva il gol di Tensted di testa sbuca sul secondo palo e il Genoa ne fa tre super i festeggiamenti dei giocatori rosso-blu davanti ai propri tifosi e qui primo corner diciamo di Badel non battuto benissimo poi questo cross sul secondo palo dove Tensted era rimasto lì prova ad accorciare le distanze Lascoli sfruttando le palle inattive poi non è finita Fontana potrebbe caricare il destro da fuori Fontana prova invece col sinistro salva Martinez Fontana Mendes Ciciretti 3-1 e qua contropede micidiale da parte dell'Ascoli gol ampiamente meritato stiamo attenti ragazzi perché potenzialmente possono ancora recuperarlo qui vediamo appunto la difesa del Genoa totalmente in ritardo sbilanciata inserimento da parte del 10 sinistro preciso violento nulla da fare per Martinez Tensted la piazza l'ho vista dentro Ascoli 1 Genoa 3 finisce qui finisce qui con altri tre punti molto importanti per il Griffone che sta continuando a trovare gol continuità tre punti e il morale aumenta così e soprattutto in una fase delicata della stagione come questa dove siamo sul finale dove comunque la squadra inizia anche ad essere stanca il fatto di portare a casa tutte queste vittorie può far sol bene al Genoa al Popolo Rosso Blu e soprattutto poi alla classifica perché in questo momento ragazzi siamo primi finalmente in Serie B non eravamo mai stati nel corso della stagione finalmente troviamo la vetta ma fare questo possa non bastare perché appunto vedete la fiducia che è comunque scarsa perché dicono tu comunque quel campionato lo dovevi dominare in questo momento possiamo dire tutto tranne che lo stiamo dominando e vi ricordo attenzione al Parma perché se perdiamo una partita il Parma va a 64 con noi Parma primo o perlomeno Parma che supera il Genoa prossimo episodio chiuderemo il campionato prima di chiuderlo faremo un attimino un recap di quanto fatto vedremo un attimino che avversari affronteremo e poi però sarà appunto episodio decisivo per la Serie B ciao ragazzi a domani